3 2 1 contatto buonasera buonasera a tutti e benvenuti a il Magic Clout Show siamo ancora in Altspace VR, la piattaforma VR di Microsoft e questa sera siamo qui per un evento molto speciale e molto atteso, come sapete il Magic Clout Show è il luogo dove si incontrano persone e si presentano progetti, questa sera presenteremo il progetto ReMemo che ha a che fare con i malati di Alzheimer, chi di noi non conosce un parente oppure un conoscente che è affetto da questa terribile malattia. L'evento sarà trasmesso in differita sul canale 154 del Digitale Terrestre da Sharing TV e io colgo l'occasione per salutare gli amici dell'Avma, associazione vercellese malati di Alzheimer di cui io sono tesserato e loro sanno quanto tengo a loro e quanto gli voglio bene. Andiamo ad iniziare, io introduco l'ospite Marco Ferrari ed è uno dei fondatori della start-up 360 Maker. Marco se vuoi raggiungermi qui sul palco, accogliamolo con un bel applauso. Ciao Marco, benvenuto, come stai? Come hai visto mi sono emozionato dicendo, parlando dei malati di Alzheimer perché è un qualche cosa che ha toccato anche la mia esperienza personale. Ok, vogliamo accomodarci? Va bene. Allora Marco, l'ho conosciuto qui a un evento del Magic Food Show, come vedete non è solamente uno slogan, entrare in Alzheimer significa incontrare persone, conoscere dei nuovi progetti e oggi Marco ci parlerà di Rememo. Cosa ci puoi dire di questo progetto Marco? Innanzitutto buonasera a tutti, io sono Marco Ferrari e sono il cofondatore di una start-up innovativa che si trova a Crema, poco distante da Milano. Stasera vi parlerò di un progetto che integra l'utilizzo di diverse tecnologie al servizio dei pazienti di Alzheimer e anche dei caregiver, cioè tutti coloro che si prendono cura dei pazienti di Alzheimer. Il progetto si chiama Rememo, è un'idea che è nata nel 2017. L'idea nasce nel 2017 e quella che vedete qua è una triangela qualsiasi, una triangela che il giorno del 4 agosto del 2017 è uscita da casa sua per fare una passeggiata e senza rendersene conto ha perso l'orientamento, dimenticando il motivo per il quale è uscita di casa. È stata ritrovata a 7 km di distanza in un comune diverso dal suo senza sapere per quale motivo fosse lì. In realtà questa zi Angela è vera del mio socio con il quale ho fondato la start-up e da quel momento abbiamo deciso di provare a utilizzare le tecnologie che noi utilizzavamo tutti i giorni nel nostro lavoro per capire se poteva essere in qualche modo un aiuto, potevamo dare un aiuto a queste persone, questi soggetti così fragili diciamo. E abbiamo cominciato a documentarci. Come? Sei un informatico, vero Marco? Sì, sì, io sono un informatico, sì, sì. Sì, io sono un informatico, mi sono laureato all'Università di Mirano e ho sempre fatto il consulente informatico. Abbiamo lavorato insieme io e il mio collega da più di dieci anni a un'agenzia di comunicazione e poi tre anni fa abbiamo avuto così da appassionati, iniziamenti di appassionati di realtà aumentata, realtà virtuale e intelligenza artificiale. abbiamo cominciato a pensare se potevamo utilizzare queste tecnologie applicate ai pazienti di Alzheimer, visto che io con mia nonna e il mio socio, con sua zia, avevamo proprio diretto contatto con queste realtà. Inizialmente il progetto nasce con il nostro pensiero legato all'utilizzo dei visori di realtà virtuale, perché volevamo pensare di in qualche modo congelare i ricordi che una persona aveva dei pazienti che si amavano di Alzheimer e invece poi da lì il progetto ha preso una piega molto più grande e anche per quanto riguarda noi inaspettata. Da lì abbiamo cominciato proprio a documentarci, a frequentare le associazioni dedicate all'Alzheimer, all'RSA e da lì si è aperto un mondo naturalmente. Infatti se vogliamo passare alla slide successiva, io vi ho portato anche qualche dato più generale in cui ad esempio nel 2018 l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, riportava alcuni dati sulle persone ammalate di Alzheimer in Italia. Nel 2018 in Italia i dati dicevano che più di un milione di persone anziane sono colpite da demenza senile. Di questo milione ben 600.000 hanno l'Alzheimer. Questo comporta, andando a spulciare ulteriori dati, che dal 1974 ad oggi 12.274 sono gli over 65 che sono scomparsi, che poi per fortuna vengono ritrovati nella gran parte dei casi. Questo però significa che ogni volta che una persona scompare, oppure mettere in moto tutta una macchina di ricerca, persone, mezzi, che naturalmente hanno un costo anche molto elevato. considerate nonostante tutto che ci sono ancora più di mille persone ad oggi che non sono state ritrovate. E quindi da lì la nostra intenzione è stata quella di prendere in considerazione già questo primo problema. Poi ci siamo accorti, sempre nell'analisi dei dati, che sulla base dei dati raccolti nell'ambito dello scenario poi illustrato, oltre ad essere coinvolti i pazienti, c'erano coinvolti anche i caregiver, cioè le persone che si occupano delle persone che sono ammalate di Alzheimer. A differenza, ad esempio, dei paesi anglosassoni, dove spessissimi i pazienti vengono ricoverati in strutture sanitarie per anziani, in Italia, come vedete dai dati, ci sono ben 8 milioni di figli che si prendono cura dai genitori. Questo significa che il 75% sono donne, ok? Perché 4 milioni si dedicano alla cura dei pazienti non autosufficienti, 75% sono donne. E sulla base di questi dati noi abbiamo pensato che innanzitutto bisognava preparare un sistema o pensare a un sistema che si occupasse da un lato dei pazienti, ma da un altro lato anche delle persone che si prendono cura degli ammalati. Come? Allora, il primo step del nostro progetto è stato quello di individuare, come dicevamo prima, dei dispositivi GPS adatti che potessero essere utilizzati con lo scopo di tracciare gli spostamenti dei vari ammalati. Quindi, di poter creare gli spazi virtuali all'interno dei quali questi pazienti, muovendosi, nel momento in cui si muovono, io traccio in qualunque momento la loro posizione. questo mi permette di realizzare virtualmente dei, diciamo, dei perimetri virtuali entro i quali questi pazienti devono muoversi e se escono vengono puntualmente notificati dall'applicazione. Dall'applicazione cosa significa? Ogni GPS è associato a un'applicazione mobile che tramite una, io parlo di termine tecnico, tramite dashboard, mi viene da dire in italiano area di amministrazione web o di applicazione mobile, è possibile definire il perimetro, è possibile definire alcuni parametri in modo tale che io posso tracciare tutte le volte il mio parente che... Disegnare un'area. Ecco, magari magari un linguaggio proprio, il meno possibile tecnico, proprio se stiamo pensando al pubblico che poi si seguire da casa, che sono interessati a questo... Fai benissimo, Francesco, a dirmelo perché io ogni tanto mi scappa qualche termine, un po' troppo tecnico, fai benissimo. Però questo per dire che le persone che si prendono cura del paziente tramite queste applicazioni mobile o anche tramite applicazioni web possono personalizzare i parametri dell'applicazione GPS e quindi possono realizzare dei perimetri virtuali dove definiscono lo spazio in cui il paziente può muoversi liberamente. Se esce al di fuori di questo spazio, parte una notifica che avvisa il parente che si occupa del paziente. E questa è già una cosa consigliissima. Sì, questa è una cosa che... Calcolate che questo primo step che noi abbiamo pensato sul GPS è uno step che noi abbiamo affrontato nel 2018. Quindi stiamo parlando di tre anni fa quando la tecnologia del GPS non era così avanzata come oggi nel senso che oggi ci sono tanti dispositivi GPS che fanno queste cose e che possono essere utilizzati per tanti motivi. Nel 2018 noi abbiamo intrapreso questa esperienza con una partnership con Samsung e l'utilizzo dei loro smartwatch. C'è da dire una cosa su questo punto che abbiamo potuto verificare con le varie associazioni anche con l'Associazione Nazionale Alzheimer e con i psicologi che ci hanno seguito in questo progetto che non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo. Non tutti i pazienti di Alzheimer possono essere trattati allo stesso modo. Quindi a un paziente a cui puoi far indossare uno smartwatch a un altro non è detto che possa accettare di indossare lo smartwatch perché i pazienti di Alzheimer possono anche avere momenti, scatti di ira, avere la sensazione di avere indosso qualcosa che non riconoscono e quindi tendono a strapparsi l'orologio piuttosto che la collana piuttosto che altre cose. E quindi gli oggetti che noi abbiamo utilizzato in questo primo step del legato GPS sono stati multipli. C'è stato l'utilizzo dello smartwatch ma c'è stato anche l'utilizzo della fibbia e delle cinture, c'è stato l'utilizzo delle collane, c'è stato l'utilizzo di badge che venivano messi in tasca a questi pazienti di Alzheimer nel momento in cui uscivano di casa. E questo è stato il nostro primo step con il quale abbiamo affrontato diciamo insieme a tutte queste associazioni la parte legata alla malattia. Il secondo step invece a cui ci siamo trovati ad affrontare è stato quello di utilizzare tutti i dati che venivano, che andavamo a immagazzinare sugli spostamenti dei migli ammalati in qualche modo abbiamo pensato di utilizzare questi dati anche per fare esercizi cognitivi. Cosa significa? Noi siamo in grado di tracciare utilizzando il GPS lo spostamento del paziente durante il giorno quindi io posso sapere se il mattino il paziente va al supermercato a fare un determinato acquisto so se al mattino o al pomeriggio il paziente si va al bar piuttosto che in edicola naturalmente stiamo parlando di pazienti in fase iniziale della malattia non certo in pazienti che sono in una fase della malattia notrata perché in quel caso il paziente è relegato in casa ok? Infatti è molto più probabile che il paziente si perda nel momento in cui è nella fase iniziale cioè è poco seguito diciamo così da un da un tutor da un caregiver in modo persistente ok? Quindi noi tracciamo tutti i suoi spostamenti a quel punto abbiamo pensato che era possibile in qualche modo utilizzare questi dati anche per effettuare degli esercizi cognitivi sul paziente come? Utilizzando degli assistenti vocali assistenti vocali abbiamo pensato di utilizzare Alexa piuttosto che Google Home e tramite questi assistenti vocali noi siamo in grado di ad esempio in determinati momenti della giornata ad esempio la sera di interrogare il paziente facendo naturalmente stiamo parlando di un paziente che mentre fa questi esercizi è seguito da un qualunque da una persona che gli sta accanto e verifica che le risposte che dà il paziente siano corrette perché l'assistente vocale ad esempio interrogando il paziente vedendo che al mattino è stato al supermercato può chiedergli se si ricorda che cosa ha acquistato oppure se è andato in edicola può chiedergli se si ricorda cosa ha acquistato in edicola e queste cose qua queste domande naturalmente sono domande che la risposta deve essere validata in qualche modo il secondo aspetto come vi dicevo è quello legato agli assistenti vocali che da un lato devono permettere al paziente di fare esercizi cognitivi dall'altro devono sostenere in qualche modo il caregiver nel momento in cui è colto da dubbi o ansie come rivolgendosi all'assistente vocale facendogli delle domande proprio dirette solitamente le domande che arrivano subito quando un paziente ripete spesso la stessa domanda cominciano a esserci i primi dubbi e non sanno esattamente come comportarsi le persone dicono ma cosa faccio rispondo sempre alla stessa cosa e altro in questo caso rivolgendosi all'assistente vocale la risposta la trovano inserita dal medico che segue il paziente perché sempre tramite l'applicazione di cui parlavamo prima è possibile entrare in un'area di amministrazione e il medico può inserire delle domande degli esercizi cognitivi può anche inserire delle risposte delle domande che solitamente vengono fatte dai vari familiari e in più può andare a vedere e verificare le risposte che sono state fatte dai pazienti durante gli esercizi cognitivi in questo modo può verificare lo stato di avanzamento della malattia da quello che avete constatato voi com'è il rapporto che i malati di Alzheimer con questi assistenti vocali si interfacciano bene li parlano si trovano chiaramente devono essere seguiti da un familiare da un abbadante da qualcuno che comunque gli ricorda che devono fare questi esercizi però abbiamo visto che la risposta è positiva ma soprattutto la risposta è positiva da parte delle persone che seguono gli ammalati perché spesso non sanno a chi rivolgere le loro domande quasi tutti si rivolgono al medico di base ma il medico di base è un medico passatemi il termine generico non specializzato sulla malattia dell'Alzheimer e quindi spesso forse c'è una persona che deve fare una domanda sì c'è Enrico che vuole fare una domanda se puoi accendere sulla regia può dargli il microfono volevo solo chiedere quando si parla di botte di intelligenza artificiale vuol dire che ha una natura adattativa si adatta all'utente che viene assegnato in questo momento è una intelligenza artificiale che non si adatta per forza di cose al paziente ma propone degli esercizi esercizi che sono già stati predisposti dai medici o dagli psicologi in anticipo quindi a loro serve queste domande per vedere in base alle risposte lo stato di avanzamento perché mettono a confronto le varie risposte con i vari periodi storici in cui hanno affrontato lo stesso esercizio cioè loro ripropongono esercizi uguali ai pazienti in momenti diversi dell'anno e vedono come sta andando il progredire della malattia puoi fare un esempio di esercizio che viene proposto da questo da questa app? questi esercizi che possono essere anche molto semplici come ad esempio un esercizio che gli chiedono può essere semplicemente se ti ricordi come è fatta una mela per intenderci oppure gli chiedono al paziente nomi fatti dati sulla sua vita personale questo perché? perché all'interno dell'intelligenza artificiale sono stati inseriti ad esempio nomi dei familiari luoghi che hanno visitato nella vacanza o piuttosto di paesi e altro e quindi in base alle loro risposte sono in grado di capire se il paziente sta peggiorando o no ho visto che c'era Massimo Cingerle che aveva alzato la mano se voleva anche lui interagire fare una domanda all'iniente volevo fare una domanda semplice visto la mia esperienza con un anziano effetto d'Alzheimer volevo chiedere questa esperienza di intelligenza artificiale con questi esercizi può andare a influire con il farmaco perché di solito questi anziani prendono il trittico che è un farmaco che regola i neuroni del cervello e in base a questo farmaco loro riescono ad avere anche una certa calma un certo controllo a livello comportamentale che tipo di relazione può avere questi esercizi con il farmaco perché a volte se non hanno la giusta dose è anche difficile gestire l'anziano e quindi volevo capire un attimo che tipo di relazione potrebbe esserci perché ho visto ho visto anche ho visto anch'io a volte era quasi impossibile riuscire a fare degli esercizi faccio esempio per esempio fare l'orologio chiedere a un anziano di scrivere un cerchio mettere le 3 le 6 le 9 mettere le lancette già lì vedi un po' lo stato cognitivo come avanza però mi interessava questo discorso del farmaco con questo con questa intelligenza artificiale attraverso gli esercizi se ci poteva essere una relazione grazie per la domanda Massimo una domanda molto interessante giustissimo sì molto allora sull'intelligenza artificiale abbiamo meno riscontri di dati di questo tipo perché è una tecnologia comunque tutto sommato molto recente l'intelligenza artificiale intesa come assistenti vocali anche nelle nostre case non è ancora diffusissimo ed è diciamo così ancora un po' in fase di studio questa cosa paradossalmente in Italia si hanno qualche informazione in più sull'utilizzo dei visori di realtà virtuale che in realtà non sono dati presi da pazienti italiani ma più che altro da pazienti che hanno già utilizzato questa tecnologia all'estero soprattutto negli Stati Uniti perché come vi dicevo prima là vengono i pazienti sono spesso si trovano spesso dentro in strutture sanitarie e non a casa a domicilio a essere curati mi sembra di aver letto che c'è un riscontro molto positivo per quanto concerne la realtà virtuale sulla realtà virtuale assolutamente sì assolutamente sì mentre invece tornando sul discorso dell'intelligenza artificiale che stava dicendo che ha fatto prima la domanda massimo c'è da dire una cosa che c'è uno studio proprio recentissimo fatto da una dottoressa italiana in collaborazione con una dottoressa americana dove hanno messo praticamente con l'assistente vocale si cerca di capire di riconoscere il modo in cui il paziente si esprime quindi il modo in cui parla dicendo proprio viene chiesto di dire alcune o di leggere alcune frasi in base a questo termine in base come lui risponde si può capire se in qualche modo il paziente ha un certo grado di di gravità della malattia se c'è un inizio sta progredendo la malattia esatto esatto perché diciamo così che in Italia nostra lingua italiana è molto ricca e quindi il paziente che ha l'Alzheimer tende invece a ridurre l'utilizzo dei numeri a ridurre il termine di parole che utilizza per costruire una frase e quindi qualcosa si può cominciare a questo è molto interessante ne parlavamo anche l'altra volta cioè del fatto che a seconda proprio della nazionalità quindi del linguaggio si capisce il grado di avanzamento con modalità diverse in Italia si riducono il numero invece per gli anglosassoni come gli anglosassoni usano usano parole molto usano un numero hanno un vocabolario di parole molto ridotto in quel caso la cosa che incide invece è come la parola viene detta cioè i pazienti malati di Alzheimer cominciano a spiaccicare le parole non dirle in modo limpido chiaro come invece farebbero normalmente noi italiani invece manteniamo una pulizia nel linguaggio ma però facciamo più fatica nel costruire la frase non so se questo può essere un po' la risposta che ha chiesto Massimo prima si dice diciamo che in che redazione era rispetto anche ai farmaci quindi ma su questo non abbiamo particolari risconti non posso dirti non posso darti informazioni su questo su questa cosa legata all'utilizzo dei farmaci è evidente che poi a un certo punto quei parametri verranno implementati nel senso che man mano che persone hanno l'utilizzo di questi assistenti vocali e quindi vengono invece come dicevi tu l'utilizzo della realtà virtuale è già stato dimostrato che l'utilizzo di questi visori e l'utilizzo anche dei suoni che circondano le persone l'utilizzo di immagini e video stimolano cinque volte di più la sinapsi del cervello umano e quindi viene stimolato fortemente e questo porta l'anziano ad avere due vantaggi uno una sorta di rallentamento chiamiamolo così della malattia anche se stiamo parlando chiaramente di un rallentamento molto limitato perché comunque tutti questi progetti sono progetti che non possono risolvere il problema possono in qualche modo essere delle forme palliative chiamiamole così ma non sono certo la soluzione del problema e da un lato la realtà virtuale oltre a stimolare il cervello del paziente lo aiuta anche a rilassarsi perché come dicevamo prima molti di questi pazienti soffrono di scatti di ira chiamiamoli così e quindi l'utilizzo invece della realtà virtuale viene anche utilizzata per distendere diciamo così la tensione accumulata l'ansia accumulata dai pazienti del fanno quindi in soldoni posso tradurre Marco stiamo parlando di ambienti immersivi come questo ma quello che noi stiamo vivendo dove ci sono dei video delle immagini comunque dei media evocativi che gli ricordano la loro vita i luoghi del loro passato eccetera e questo aiuta diciamo a rallentare il progressivo la degenerazione insomma della media e su questo ci sono degli studi ci sono anche qui sono stati racconti dati ci sono degli studi continui su queste cose infatti lo vedremo dopo in un esempio nel video che vedremo noi collaboriamo anche con una start up americana dove la loro idea è stata quella di riprodurre all'interno di un ambiente un ambiente chiamiamolo familiare dove è possibile che i pazienti si rilassino e prendano visione appunto come dicevi tu Francesco di video interattivi piuttosto che di immagini fotografiche di casa propria o dei loro familiari e allo stesso tempo dialogare con altri pazienti o con i propri parenti che si trovano magari a chilometri e chilometri di distanza noi con loro collaboriamo nella realizzazione di contenuti all'interno di questa realtà virtuale che vedremo tra poco quello che vedete nella slide è un po' ancora Marco proprio per come ha fatto l'Alzheimer che va a distruggere i ricordi più recenti io posso immaginare che creare degli ambienti virtuali con dei contenuti multimediali che gli ricordano nel passato i figli quando erano più piccoli cose di questo tipo insomma perché paradossalmente loro non si ricordano quello che è successo magari non so un mese prima però si ricordano benissimo quello che è successo vent'anni prima quindi si ricordano le strade del loro il paese della loro infanzia oppure persone che c'erano nel passato ma appunto non più il presente è proprio questo che li fa calmare perché uno dei problemi più grossi io ho fatto parte di centri di gruppi che danno il supporto ai familiari che sono anche diciamo molto spesso l'anello debole della catena quelli che subiscono diciamo certe intemperanze di questi malati che appunto hanno degli scatti di re cose di questo tipo avere un qualcosa che li calma è un qualcosa di estremamente importante se la realtà virtuale può essere utile in questo è un grosso passo avanti veramente contiamo anche sul fatto che questi visori come lo so io per quanto possa essere molto più leggero privo di cavi eccetera eccetera in un futuro saranno ancora ancora più leggeri ragionabili a quasi degli occhiali giusto giusto Marco diciamo si è tracciata una strada sì sì è vero anche in questo caso nell'utilizzo dei visori non tutti i pazienti è possibile utilizzare i visori perché ci sono formi di pazienti che hanno una forma di alzheimer che non gli permette di utilizzare nessun tipo di visore ma invece ci sono pazienti come quelli che vedremo dopo nel video che invece sono entusiasti e non vedono di poter indossare il visore e di poter incontrare in un mondo virtuale come questo parenti che sono a distanza di chilometri oppure di rivedere come dicevi tu momenti della loro infanzia paesi anche eventi di compleanno che sono stati registrati oppure natali che sono stati passati negli anni scorsi infatti uno dei nostri ultimi obiettivi o speriamo che un giorno di riuscire a realizzarlo sarebbe quello di creare una piattaforma di ricordi piattaforma di ricordi dove non solo per i pazienti ma anche per i parenti andare a rivivere utilizzando il visore rivivere ricordi che magari sono stati registrati anni e anni prima e l'ideale sarebbe riviverli a 360 gradi come lo stiamo facendo noi stasera io direi di vederlo questo video chiediamo alla regia se lo manda grazie 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 a tutti. 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 Con i visori Oculus? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.